Gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Capaccio Pestum hanno smantellato una casa di tolleranza in attività da diversi anni e presso la quale due uomini sfruttavano la prostituzione di diverse ragazze. Più di 5.000 euro erano i proventi che ogni mese incassavano i due soggetti, che scoperti sono stati deferiti alla procura della Repubblica di Salerno. Per la sua posizione strategica a poche centinaia di metri dalle antiche mura di Pestum, l'immobile attirava numerosi clienti. Continuo inoltre è il ricambio di donne nell'appartamento, tra queste anche di nazionalità italiana. Le indagini degli agenti hanno consentito di liberare le donne non solo dallo sfruttamento, ma anche dal vivere in condizioni al limite della sopravvivenza umana, con gravi carenze igieniche e sanitarie. L'appartamento inoltre era stato costruito in maniera totalmente abusiva, con ordine di abbattimento, ed era privo di acqua potabile e di scarichi fognari, tanto che si è scoperto scaricare i suoi reflui direttamente in un vicino fiume le cui acque confluiscono nel mare. A seguito della perquisizione, dove sono state trovate cospicue somme di denaro, l'appartamento è stato sottoposto a sequestro ed il proprietario è stato denunciato per il furto dell'acqua consortile.